Puntata speciale contenente battute che non tutti potrebbero gradire. Fuggite, sciocchi! Il 23 ottobre è finalmente uscito Borat 2 e io alla prima visione ero emozionato come manco un pedofilo il giorno in cui viene nominato prete! Sunshine Baron Cohen realizza per Amazon Prime Video un film sopra le righe, forse non ai livelli del primo ma sicuramente degno di questo 2020 e in totale spregio del USA, del suo presidente, del suo staff e dei repubblicani. Il tutto però con classe, senza demonizzarli, anzi facendo l'esatto opposto, riuscendo a catturare in loro l'umanità delle persone quali sono e i loro punti di vista nella vita quotidiana, senza esagerare. Ovviamente è chiaro l'intento di ridicolizzare la parte repubblicana degli USA con anche video di accenni estremisti come per il saluto nazista ad un evento, ma ripeto di aver trovato tutto questo, fatto con stile e non con cattiveria, potrei dire quasi con un intento veramente giornalistico, satirico e di denuncia, un connubio che forse nemmeno a Michael Moore è mai riuscito. Fidatevi, guardate questo Borat su Amazon Prime Video per capirlo bene, anche se ovviamente non è per tutti. Prima di entrare nel dettaglio delle scene epiche di questo film voglio spezzare una lancia a favore di Sasha Baron Cohen che trovo incredibilmente sottovalutato, perché io seriamente se mai diventerò grande vorrei essere come lui, un comico e un attore completo che appena appare sullo schermo subito fa trasudare carisma al personaggio. Non mi riferisco solo ai suoi Borat, Bruno o Aladin che sono satirici e caricaturali, ma anche ad interpretazioni di spessore drammatico come nelle serie The Spy realizzata per Netflix e incentrata sulle tensioni tra Israele e Siria degli anni 60 e 70 del secolo scorso. Lo ripeterò allo sfinimento, avrei voluto vedere lui interpretare Freddie Mercury al posto di Rami Malek, che trovo invece incredibilmente sopravvalutato, ma poi alla fine io chi sono? Michael Marchese del Grillo, quindi non sono un casto. Assolutamente valida ho trovato anche Maria Bakalova, che ha interpretato la figlia di Borat e vera spalla necessaria per questo film. Infatti fin da subito è chiaro che Borat è troppo famoso per poter ripetere l'epicità del primo film, quindi molte parti fondamentali come l'incontro con le femministe repubblicane o quello più sensacionalistico con Giuliani è tutto sulle sue spalle. Osservatela che spesso non riesce nemmeno a rimanere serie durante le gag in cui fa da spalla a Sasha. Un mio personale applauso va anche a lei, quindi. La trama. Il nostro Borat riemerge dal Gulag dove era finito 14 anni fa, dopo il primo film, e gli viene dato l'ordine dal suo presidente di portare un dono a Trump. Tutto questo per far entrare Naze Ebrahim, il presidente kazako, tra gli amiconi di Trump come Putin e Kim Jong-un. Una missione impossibile per il nostro Borat, che però dopo essere tornato al suo villaggio, aver trovato sua figlia minorenne come l'unica che lo aspettava con ansia ed essere stato cacciato via in malo modo da tutti gli altri, è comunque felice di partire ancora una volta per gli USA. Adesso, senza parlarvi del finale, vi ricordo di mettere vi piace, commentare, iscrivervi al canale e condividere, accenno ad uno spoiler. In alto dovreste trovare qualche video di vostro interesse, nella barra sotto invece è segnato comunque il punto in cui si esce dallo spoiler se non voleste ascoltarlo. La figlia di Borat lo segue clandestinamente negli USA e da lì nasce l'idea di usarla come regalo prima per Pence, il vice di Trump, e poi per Giuliani, l'avvocato di Trump ed ex governatore di New York. Ovviamente Borat, prima di entrare ad un convegno dei repubblicani travestito da Ku Klux Klan, cambiarci e travestirsi da Trump, prendere sua figlia in spalla e dirrompere in sala mentre parla Pence, deve sgrizzare un po' la figlia. Questo avviene con tre passaggi fondamentali, quanto assurdi, il ballo delle debuttanti con annesso ballo a gambe aperte mentre lei ha il suo periodo rosso del mese, l'incontro con la influencer Mechie Chanel e la visita in una clinica conservatrice in cui presentandosi come padre e figlia chiedono la rimozione di un bambino dentro di lei. Non vi dico che bambino e come ci è entrato, ma sappiate che c'è. Siamo giusto ad un terzo del film e le cose non fanno che peggiorare. O migliorare, se come me amate il trash. Borat porta sua figlia a farsi un impianto al seno, ma tutto precipita per colpa di una babysitter e l'incontro con le femministe repubblicane. I due si separano e si ritroveranno solo verso la fine all'intervista con Giuliani. Arriva però il covid e tutto si blocca. Qui la genialata di Sasha Baron Cohen, che si fa ospitare a casa di due repubblicani per giorni o addirittura settimane. Questa per me è la parte più bella, assieme a quella della sinagoga, e che fa anche capire come umanizzi chi inconsapevolmente viene tirato dentro al suo film. I discorsi che fanno, le canzoni e le manifestazioni no mask a cui partecipano penso sia il punto migliore di tutta la pellicola. Si arriva a Giuliani ed esco dallo spoiler come preannunciato, perché seriamente è un fatto politico di cui non voglio parlare e a livello del film non è poi così fondamentale. Bellissima poi la successiva fuga dall'hotel, in cui si notano palesemente le loro reali emozioni per essere scampati ad un sicuro fermo delle forze dell'ordine. Il finale è degno poi di uno spy movie, anche se si intercettano molti dettagli a riguardo già nella prima parte del film. In conclusione io faccio un applauso ad Amazon e a Sasha Baron Cohen per aver portato in questo 2020 un'incredibile ventata di allegria e di trash dissacrante ci voleva proprio. Ringrazio tutti voi per essere arrivati fino a qui e soprattutto i supporti e semi ai progetti che si sono raccolti tra marcotadia.net e il podcast di Fantascientificast. Come sempre mi piace, commento, condivisione e iscrizione al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Grazie a tutti!